Per te abbiamo un sacco di cose in comune. Siamo tutte e due bellissimi. Ci piace la Royal Cole e nessuno dei due ha avuto un padre che valesse un accidente. Phillips Perry ha otto anni ed è stato preso in ostaggio... Tu vuoi spararmi? Ah, certo. ...dall'uomo più pericoloso del Texas. Metti giù quel fucile, non mi prenderesti, potresti colpire il bambino. Entra in macchina, Phillips! Potrebbe essere il suo giorno fortunato. Quella è la mia macchina! Prendendo vani i tentativi della polizia di catturarlo, è inserucito prendendo in ostaggio un bambino di otto anni. Questo non è un programma di riabilitazione, questa è una caccia all'uomo. Tu come bambino americano hai il diritto di mangiare lo zucchero filato, di andare sulle montagne russe. Ancora, più veloce, più veloce! Hai un telefono? No. Sdraiati finché non ce ne siamo andati. Avevo detto al giudice di mandarlo in un penitenziario. Kevin Costner. Tu non sei cattivo, vero, Butch? Sì, e come? Clint Eastwood. Adesso sappiamo chi è che comanda. Nel nuovo film del regista vincitore dell'Oscar, Clint Eastwood. Sei mai stato su una macchina del tempo? Là davanti c'è il futuro. E là dietro c'è il passato. Questo è il presente, Philip. Goditelo finché dura. Un mondo perfetto. Non è così. Non è così. Tutto il futuro. Non è così. Tutto il futuro.